Quali sono le azioni che sono state messe in campo per migliorare il controllo del territorio giarese per rendere ancora più efficace l'importante lavoro svolto dalla Polizia Municipale? E' quanto ha chiesto l'amministrazione comunale e il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Una risposta la si attendeva all'inizio del mese durante i lavori di consiglio comunale, poi esaltato per ragioni procedurali. Molte domande urgenti sottolineano i grillini, dunque non hanno avuto risposta. Forse non tutti sanno, ripetisce il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, che c'è una grave carenza in pianta organica, con particolare riferimento all'età media degli agenti in servizio, che è molto alta e pertanto non sempre idonea a svolgere servizio di pubblica sicurezza sulle strade, che allo stato attuale il Corpo di Polizia Municipale applica un sistema di turnazione parziale con conseguente riduzione degli agenti in servizio di turno, che a causa della turnazione parziale non vi è controllo completo del territorio da parte della Polizia Municipale, perché già a partire dalle venticirca nel territorio del Comune giorese non vi sono pattuglie di Polizia Municipale in servizio. Questa condizione genera danno alla sicurezza della città, perché a coprire i compiti di servizio della Polizia Municipale intervengono le altre forze dell'ordine, Polizia e Carabinieri, con conseguente sottrazione di uomini e mezzi ai servizi specifici di quei corpi. Fino al mese di maggio agli agenti di Polizia Municipale non è stata pagata la reperibilità da quasi un anno. C'è inoltre una condizione di assoluta inadeguatezza logistica dell'edificio adibito a sede del Comando di Vigili Urbani, privo di recensione adeguata, sistemi di controllo dell'accesso e camera di sicurezza in caso di fermo giudiziale. Ad oggi, chiudono i grellini, non sappiamo quali siano gli interventi dell'amministrazione in tal senso e quale sia il programma per migliorare la condizione di sicurezza in città. Ad oggi la città e la sua sicurezza sono garantite dalla buona volontà di un corpo che ha bisogno di interventi di sostegno importanti anche per lavorare in sinergia con gli altri corpi dello Stato perché con la semplice buona volontà non andremo lontano.